Domani sera alle 21, secondo appuntamento della rassegna Il Cinema in Sede, promossa dal CAI di Clusone. Che cosa proporrete? Proporremo due filmati. Il primo si riferisce ad una montagna importantissima, simbolo delle Alpi, molto bella, cioè il Cervino, e narra una salita alpinistica molto impegnativa di una famiglia di alpinisti. Ci sono due guide alpine, padre e figlio, la famiglia Barmasse. Un film veramente fatto molto bene e interessantissimo. Il secondo invece, ci spostiamo, andiamo in Pakistan, sul Karakorum, ed è un film che riferisce dalla salita invernale ad un 8000, esattamente il Gassio Brun 2, realizzata insieme ad altri due compagni da un nostro conterraneo, Simone Moro, famosissimo in tutto il mondo. Anche questo è un bellissimo film. Qual è il significato che volete dare a questa iniziativa, al di là appunto della proiezione di questi due filmati? Sì, con questo vogliamo richiamare l'attenzione a tutti i nostri soci, ma non solo, di frequentare la nostra sede, una sede tra l'altro molto bella in acclusione, e niente, parlare sempre più di montagna. Al termine delle due proiezioni ci sarà un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.